Il sindaco di Massafra, Martino Tamburrano, e l'assessore alla fascia costiera e periferie Raffaele Gentili hanno chiesto al prefetto di Taranto un incontro per individuare ogni utile azione volta alla mitigazione dell'elevato rischio idrogeologico delle aree poste a sud del territorio massafrese. La preoccupazione degli amministratori scaturisce dagli ultimi avvenimenti alluvionali che hanno colpito Massafra, fortunatamente ben lontani da quelli accaduti nel 2003-2005.